ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video io sono salvatore palomba e oggi siamo davanti a un foglio bianco so già cosa state pensando perché un foglio bianco davanti in un canale dove si parla di telefoni sicuramente non sono qua fare una recensione a un foglio di carta bianco anche se è molto è un foglio a 4 questo quindi anche molto versatile comunque perché questo perché ho scoperto e ora vi dico come l'ho scoperto il modo di aggiornamento dei videotelefoni ragazzi io ho sempre pensato sin da piccolo che l'aggiornamento avvenisse tramite un solo numero cioè che tutte le versioni chiamassero quel solo numero che non altro che il server che faceva scaricare ai telefoni le nuove versioni del software ma da quando la collezione ho fatto delle prove con software diversi e ho visto che durante una procedura di aggiornamento che si può far partire tramite il videotelefono con la funzione aggiorna software il telefono in base al software che ha chiama un numero diverso mi si potrebbe dire ma salvatore ma è normale sono due telefoni diversi chiamano due numeri diversi ok se fosse un promette un promette un promette due software diversi chiamano due numeri diversi giustamente però due urmet uno alla 1 17 59 per esempio e uno alla 2 no 4 chiamano due numeri diversi nonostante siano gli stessi telefoni perché questo in realtà inizialmente non me lo spiegavo però poi questo fattore mi ha fatto dedurre ovviamente la mia è un'ipotesi però credo sia l'unico modo possibile e mi ha fatto dedurre il metodo di aggiornamento allora facciamo finta che noi adesso lo disegno abbiamo un bellissimo computer certo non è che io sia grande a disegnare eh bello ci facciamo anche la tastiera del mouse aspettate tastiera e il mouse questo computer di come è fatto male se lo dovessi vendere dovrei pagare chi lo compra comunque vabbè allora questo computer qui è collegato a internet con la freccia mettiamo un collegamento a internet adesso ci mettiamo un modem modem dial app per fare la connessione remota e lo colleghiamo alla rete alla rete pstn ok allora questo computer quando riceve quindi se noi lo programmiamo per essere un server quindi un server dial in un server per la connessione remota quando visto che il computer è collegato a internet quindi io posso andare su google su youtube eccetera eccetera tutti coloro che si collegano tramite la dial app a questo modem e quindi al computer potranno raggiungere google youtube eccetera eccetera quindi potranno fare tutto ciò che io posso fare col mio computer server se questo computer però non è connesso a internet cosa succede il server dial in funziona lo stesso però il client quindi i chiamanti avranno 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 accesso soltanto alla rete locale quindi alla lan che cos'è la lan quindi quando io sono tagliato fuori dal mondo e io posso utilizzare soltanto gli indirizzi che ci sono nel mio computer un indirizzo ip fondamentale l'indirizzo ip è un chiamiamolo un numero che identifica univocamente un computer l'indirizzo ip del computer nella rete lan quindi per farla breve per dire al computer collegati a te stesso e 127.0.0.1 se io metto se lo mettessi in questo server l'indirizzo 127.0.0.1 il computer effetto una richiesta di connessione a se stesso quindi se io per esempio ho un server http che va sempre sui server http generalmente vanno sulla porta 80 quindi io creo un server http con l'apposito programma e metto poi nel browser quindi su opera su firefox su chrome su quello che avete voi metto 127.0.0.1 2.80 quindi collegate a te stesso nella porta 80 quello che andrò a visualizzare sarà il server http come se io fossi un altro computer questo è possibile farlo sia se sono su internet sia se non sono su internet quindi ora voi mi potreste dire ma salvatore ma cosa c'entra tutto questo con i videotelefoni c'entra perché il metodo di telecom lo dico pubblicamente fu un metodo geniale se il metodo io penso questo sia l'unico metodo possibile però appunto questo mi sembra un metodo geniale e sono stati anche molto bravi a implementarlo ricordiamo che parliamo di connessioni del 2004 2005 allora quindi facciamo finta che qua abbiamo un videotelefono molto disegnato male abbiamo un videotelefono questo videotelefono ha la versione software 1.17.59 poi ne abbiamo un altro con la versione software 1.19.5 questi due videotelefoni devono aggiornare il software alla 2.1.4 all'ultima versione come si fa? allora il telefono il videotelefono con la 1.17.59 contatta il server che molto probabilmente i server di telecom di aggiornamento non erano neanche collegati a internet con molta probabilità quindi entrava si collegava con il server quindi chiamava il numero si collegava il modem interno del telefono si collegava con il modem del computer e adesso nell'ambito delle telecomunicazioni come vi ho detto prima quando il computer non è connesso a internet neanche il client quindi il videotelefono sarà collegato a internet però visto che si tratta di una connessione remota alla dial app un server dialing non è altro che un server di connessione remota il telefono avrà accesso alla rete locale quindi potrà fare potrà tranquillamente fare potrà avere accesso appunto a questo computer non ad internet perché non è connesso ma a questo computer si quindi il telefono non farà altro che chiedere al server nella rete locale di scaricare la versione software e scarica la versione software adesso questo server qua però non è come ho detto prima un server collegato a internet però questo metodo aveva probabilmente una pecca gli aggiornamenti si potevano perché è l'unico modo gli aggiornamenti si potevano scaricare uno ad uno mi spiego bene l'ultima versione è la 2.1.4 ok? non riesco a fare il 4 perché mi si muove il foglio che ho una mano sola comunque l'ultima versione è la 2.1.4 per poter scaricare la 2.1.4 il videotelefono doveva passare prima dalla 1.19.5 quindi diventare come questo visto che il server aveva questo è il primo server che non è collegato a internet aveva la prima aveva la prima tappa la 1.19.5 quindi scaricava la 1.19.5 e diventava come questo quindi ora sono entrambi con la 1.19.5 a questo punto c'era un altro server che io faccio in maniera molto spicciola e con un altro modem di conseguenza entrambi i telefoni si dovevano collegare sempre nella rete locale perché io sto agendo come se non ci fosse collegamento a internet nella rete locale e nella rete locale il server gli mandava il software e facevano l'aggiornamento entrambi alla 2.1.4 quindi in riassunto c'erano più server questo spiega perché ogni versione ha il suo numero e ogni server aveva una sua versione software quindi gli aggiornamenti ne avevano fatte tappe quindi accedevano sulla rete locale ora io ho fatto l'esempio del server http ma non era probabilmente non ne ho idea ma comunque non credo fosse un server http e probabilmente era un server che non lo so io sui forum ho letto che gliela mandava via sms una cosa del genere comunque la scaricava a noi questo interessa e si aggiornava quindi dovevano passare quindi prima quelli con la 1.17.59 dovevano passare da questo server che faceva scaricare la 1.19.5 e poi da un altro server la 2.1.4 tutto avveniva molto probabilmente offline quindi non c'era bisogno di internet perchè i telefoni e perchè i telefoni appunto si collegavano nella rete locale quindi facendo la connessione remota prendevano in qualche modo la rete locale del computer perchè ovviamente questo è il telefono questo è il computer con la sua rete locale ora sono diventati due cerchi se il computer ha la sua rete locale anche il telefono o comunque nell'ambito delle telecomunicazioni anche un altro computer che si collega che si collega al server avrà accesso alla sua rete locale quindi la rete locale del server diventa anche la rete locale del client e quindi così scaricava la versione software perchè dico che è geniale? perchè si aveva la pecca che probabilmente aveva la pecca sicuramente che non poteva fare tipo l'aggiornamento dalla 1.17.59 alla 2.1.4 però era incredibile perchè non potevano essere aggrati non essendo online come facevano gli hacker quindi ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto e grazie per la visione